Roma, il ministro della cultura popolare Polverelli e l'ambasciatore von Mackensen, inaugurando la mostra germanica del bianco e nero esaltano i valori universali della cultura latina e tedesca, patrimonio indistruttibile della civiltà antica e moderna. Uno sguardo alla mostra, la cui apertura ha felicemente coinciso con quella della quadriennale, la massima rassegna d'arte figurativa italiana. Grazie a tutti.